Si annuncia un autunno difficile, i primi segnali sono arrivati dal Nazareno Gabrielli di Arias di qualche giorno fa ma ci sono anche tante altre aziende che stanno attraversando momenti di difficoltà economica. Vorrei dire che comunque al di fuori di quello che stanno annunciando della ripresa economica che comunque su qualche settore ma sicuramente non nel nostro territorio, qui nel nostro territorio l'autunno si annuncia veramente difficile. Tu hai detto al Nazareno Gabrielli e sai benissimo che tra la prima settimana di novembre ci avremo un incontro dove chiariremo alcuni aspetti, soprattutto il progetto industriale, ma oltre a questo quello che mi preoccupa di più è che comunque il settore proprio pellettiero sta evidenziando un'ulteriore crisi che era negli anni passati leggermente affiebolita. Questo è perché la maggior parte delle aziende lavorano in monocommittenza e voi capite che quando si lavora in monocommittenza per un'unica firma poi succede questo quando la sede generale decide altre strategie. Quindi ancora un periodo difficile si annuncia per il territorio di Tolentino e il suo circondario ma ci sono settori che in qualche misura, in qualche maniera riescono a fare un po' il dribbling alla crisi oppure questo momento difficile tocca tutti i settori? Diciamo che questo momento difficile tocca tutti i settori però come in tutti i territori ci sono delle aziende che la crisi l'hanno sentita meno o quasi niente aziende che riescono ancora a investire posso citarne una, la cartiera che sta investendo aziende come la Mondi aziende che non subiscono una crisi così pesante sulla pelletteria, prima le agitavo, penso a Tozze della Valle il gruppo che ancora non si è sentito mai parlare e quindi del resto queste aziende si contano su un palmo della mano ci stanno anche altre aziende che non sono entrate in piena crisi ma hanno comunque subito l'effetto economico della crisi Per chiudere ovviamente poi c'è il riflesso peggiore quello che riguarda da vicino i lavoratori calo dell'occupazione, quindi licenziamenti e cassa integrazione Sì ma è normale, durante una crisi cala il reddito dei lavoratori la maggior parte dei lavoratori sul settore artigiano stanno in cassa integrazione in deroga vorrei dire che la cassa integrazione in deroga nonostante gli annunci che viene finanziata purtroppo i lavoratori, e dico purtroppo perché qui qualche battaglia già l'abbiamo fatta, i lavoratori la percepiscono sei o sette mesi dopo questa è assolutamente una vergogna perché non tutti i lavoratori sono in grado di poter comunque sostener voglio dire poi dopo le spese giornaliere e addirittura dei lavoratori sono costretti a licenziarsi perché alcune aziende non li pagano più da tre mesi, da quattro mesi